Qualcuno a Parigi si sta innamorando di questa competizione, si sta davvero innamorando della Champions League. Benvenuti a questo nuovo video ragazzi. Il PSG è in finale di Champions League, per la prima volta nella sua storia. E' la quinta squadra francese a raggiungere la finale. L'unica ad averla vinta è stata l'Olympique Marsiglia. Il PSG stasera ha schiantato il Lipsia con un secco 3-0. La partita di questa sera principalmente ci lascia due cose. La prima è che con il senno di poi l'Atalanta sarebbe sicuramente arrivata in finale. E la seconda è che il PSG dei marziali, Kylian Bappé, Neymar e anche un certo Angel Di Maria, soprannominato il Fideo, lo Spaghetto per via di quel fisico fragilino che stasera fa un gol e due assist e trascina il Paris-Germain in finale di Champions League. E' vero, il Lipsia non è stato un granché. Il Lipsia ha meritato questa semifinale, attenzione, ma stasera non è mai stato in partita. Il PSG dello Sheik, il Paris-Germain che da oltre dieci anni esce milioni su milioni, finalmente raggiunge una finale. La finale della Coppa più ambita del mondo, la finale di Champions League. Ricordo ancora dieci anni fa il PSG che comprava l'Avezzi, Ibrahimovic, Thiago Silva, Thiago Motta, Nenè. Potrebbe essere la chiusura del cerchio. Che i soldi portano alla vittoria qualora il PSG vincesse questa Champions League. Intanto aspettiamo domani sera per scoprire la seconda finalista tra Bayern Monaco e Lione. Scopriremo quale sarà la finale di domenica. Piccola parentesi. Dispiagge per Gigi Buffon che lascia il PSG per andare in Italia a superare i record di presenza in Serie A di Paolo Maldini. Ma si perde inevitabilmente la possibilità di vincere la Champions League. Una Coppa ormai è diventata una sua ossessione. A presto ragazzi, a domani, al prossimo video.